L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione interregionale per la Campania e la Calabria, ufficio delle Dogane di Salerno, ha proposto al Comune di Castellabate un protocollo di intesa per dar corso ad una fattiva collaborazione volta a contrastare la contraffazione e gli altri fenomeni illeciti, favorendo così la regolarità del commercio. Ciò è ragione del fatto che il mercato di merci contraffatte arreca grave pregiudizio al commercio regolare, all'economia pubblica in genere, oltre che alla tutela e alla sicurezza del consumatore. Inoltre, il mercato di merci contraffatte può altresì determinare situazioni di degrado urbano, tant'è che lo scorso anno, con una delibera di Consiglio Comunale, si procedeva all'approvazione del Regolamento Generale del Commercio, con cui, oltre ad ispirarsi ai principi della trasparenza del mercato, della concorrenza, della libertà d'impresa e della libera circolazione delle merci, si perseguono diverse finalità, quali la tutela del consumatore, l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali e la qualificazione dei servizi commerciali al turista. L'Agenzia delle Dogane di Monopoli esercita proprio funzioni di polizia giudiziaria e tributaria a competenza settoriale, finalizzata la prevenzione, all'accertamento e al contrasto delle violazioni alle norme, la cui applicazione demandata alle Dogane. Così, al fine di tutelare il commercio regolare e assicurare una maggiore tutela del consumatore, è necessario porre in essere azioni di contrasto e repressione, sia dal Comune di Castellabate che dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, ciò attraverso iniziative di sensibilizzazione di informazione nei confronti dei cittadini consumatori, in quanto vi è la scarsa consapevolezza della gravità del reato in materia di commerci illeciti e delle sue implicazioni in termini di rischi per la salute e danno all'economia.